Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video, io sono Salopimpos e oggi siamo alla Domenica Horror con Resident Evil 7 Nell'ultimo episodio abbiamo affrontato la signora Margaret e l'abbiamo lasciata in una situazione piuttosto bizzarra Perché si è trasformata e sembra tipo una donna ragno, fantastico E adesso dobbiamo rientrare praticamente, ecco mi sono perso Dobbiamo andare praticamente dove è la mappa Ok in alto, andiamo in alto, dobbiamo rientrare in quella schifosissima casa, bruttissima Andiamo tizio, andiamo a non ti perdere nei meandri di questa strada Allora dobbiamo ritornare praticamente in quella casa, anzi non ritornare perché l'ultima volta siamo sbucati da questa pa, ecco da qua E quindi dove dobbiamo andare adesso? Dove andiamo? Di qua sono venuto Di qua c'è qualcosa, vediamo Salve, posso entrare? E' chiusa dall'altro lato, buono, meglio così Allora dobbiamo andare in quelle scaline di là, fantastico Ho paura e stiamo iniziando a te Chi è? Foto tesoro Chi è? Un gabinetto Mozziconi di sigarette C'è nessuno spero di no Margherita, ma dove cacchio te ne sei andata che mi serve la lanterna Margherita, qua non c'è nessuno Meglio così Chi è? Chi è? Già qua è? Nooo, ma dammi il tempo di respirare un pochino Ma un pochino però Ok, qui abbiamo un po' di cosine, erbette, vai prendi l'erbette tizio Ma che dove crescono? Qua nella miniserra Bellissimo, portiamocela a casa va Io sento rumori Aiuto raga Che è combustibile solido Eeeh, questo chi è? Agente separatore Per fare che? Può essere combinato con alcuni oggetti per renderli riutilizzabili Separandone il fluido chimico Ah, quindi delle cose che ho già creato posso effettivamente separarli Vabbè, per ora non mi serve Volendo, però il fluido chimico non mi serve E qua direi che non c'è più niente Quindi devo scendere là sotto Ma devo scendere là sotto con quella? Ma quella mi ammazza ora? È bruttissima, non so se l'avete visto L'altro, lo scorso Che è uff Non so se l'avete visto lo scorso video Ma vi posso garantire che è bruttissima E devo scendere pure da qua Oddio Ma aiuto Aiuto Ho paura già Ho paura Ragazzi, datemi sostegno Qua che c'è un boiler Qua una porta No, no, andiamo di qua però Un sacco da box E ci possiamo allenare Prima di affrontare la La bastarda Qua che c'è? Qua non c'è niente Qua che c'è? Una cassetta Rompiamo le cassette Che è? Cartuccia fucile Buono mi servono Buono mi servono Perché ho già qua l'ansia Io sento rumori qua E la tizia pure La sento Aiuto Che è? Psicostimolanti Per adesso non mi servono Perché ho un po' paura Ve l'ho detto che ho paura Andiamo di qua va Andiamo che ci dico eh Che è? Ragnacci morite Maledetti morite Morite ragnacci Ah questa è la porta di poco fa Allora ma normale che non sono entrato C'erano i ragni dietro Bastardi Qua che c'è? Ancora ragni Morite ragnacci Faccio barbecue di ragni Che abbiamo? Che abbiamo? Che abbiamo? Cartuccia fucile E fluido chimico forte Poi prendiamo tutto va Per qua non si sa mai Questa porta praticamente conduce di nuovo là Sì Buono ma normale che non sono entrato C'è C'è i ragni a sorprendermi Ok Di là ci abbiamo visto Di qua ci abbiamo visto Di qua ci abbiamo visto Dobbiamo solo salire Dobbiamo salire Nella cosa non Ah c'è una porta Aspetta Esploriamo la porta E' chiuso all'altro lato Buono Meglio così Saliamo 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 No non ti cavare tizio Saliamo Che cacchio no Attacca Via Infiammati Oh non gli faccio niente Mori 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 Bastardo Mori Ma così si fa Ma chi prende No Liberati tizio Liberati Via tizio Via 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 Che cacchio è sto coso Fucile Fucile No ma stiamo scherzando Dove cacchio è andata No via Via Pure i ragni maledetti si mettono Via Levatevi Che Rompi tutto tizio Rompi tutto Dove quella bastarda Oh Elevatevi Pure i moscerini Qua Via Infiammatevi Ma c'è Ma No ma vuoi morire Ma vuoi morire Bastarda di mosca Cioè non solo Pure le mosche Devono spaccarmi Le scatole No Via Mi sa che non gli faccio niente Con sto coso però Dov'è Muori Aia Aia Bastarda Mi ha colpito Aia Curati tizio Curati 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 Tizio Non abbiamo fatto niente Cioè ma fa danni Tosti Tostissimi direi Che c'è qua dentro Combustibile Ma che cacchio ci ridi Che cacchio ci ridi Dov'è E morite pure voi Aiuto Aiuto Mi dico a dove scappi Mori Dov'è Mori Maledetta Mori Aiuto Mori Che fai Che fa Come cacchio Cammina questa Aiuto Aia Aia Colpi sprecati Ti iniziano a sprecare i colpi Che già sono contati Via E infatti Lo capisco Che non ho dove andare Infatti ti devo bruciacchiare Secondo me Come ammazzo Sta stronza Maledetta Troppi Troppi Danni Troppi Troppi Danni Tizio ma lo vuoi puntare Sto cacchio di cosa Tizio Crepa Maledetta Crepa No 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 Via Via Curati tizio Non abbiamo più niente Crepa Crepa Non abbiamo come curarci Piantina Piantina Via tizio Vattene d'acqua Tizio Come mi curo Ok prendiamo un po' di cose No Non sono qui Aiuto Via Scappiamo Scappiamo Chi è Ma porco Schifo Via 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 Tizio Via Via Cioè non posso curarmi Come mi curo Oh cacchio Via Butta tizio Bravo Bravissimo Eh ma che pure 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 Abbiamo finito tutto Via di qua Via Tizio apri la porta Tizio veloce No Mi sono intrappolato Mi sono intrappolato Che cosa credi di farmi Mi ha ammazzato Mi ha ammazzato Cioè 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 Molto difficile Devo dire Molto difficile Non guardare Non guardare Non è che sei così bella Via 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 Scappa tizio Scappa tizio Via Veloce 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 Carichiamoci il fucile Scendiamo 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 Dove vado Aiuto Aiuto Scala Scala Ma non l'ho liberato Però Sali tizio Veloce Aspetta è qua Quello è qua Tizio dove saliamo Tizio che quello è qua Tizio ma porco Schifo Dov'è Dov'è La stronza Dov'è Ma è Crepa Dalla sotto Levati Dalla sotto Via 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 Che quella Corre Via Via Veloce 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 Dove sei Maledetta Dove sei Dove sei Maledetta Che c'è qua Dov'è Aiuto Via 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 Muori Ancora viva Ancora viva Nel culo Nel culo Nel culo No no Chi è Via 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 nel culo Bastarda Via scappiamo Va tizio scappiamo Perché qua Veloce tizio Veloce A caricarti sto coso Veloce Dove sei Bastarda Dove sei Vieni qua Che ti spacco Tutto Ti spacco Vieni qua Vieni qua Piccidida Vieni qua Dov'è 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 Fluido chimico Non posso prenderlo Che succede qua Sento rumori lì sotto Dov'è Eh no Checca Non l'ho vista Maledetta Non l'ho vista Via Via Che facciamo Via tizio Veloce Tizio Via 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 Aiuto Aiuto Scappa tizio Veloce Abbiamo pochi proiettili Come faccia ad uccidere sta maledetta Via Muori 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 Aiuto scappa tizio scappa Non abbiamo più proiettili Non abbiamo più proiettili Come faccia ad uccidere sta maledetta Adesso ti infiammo Via Via Che cacchio ci ridi Via Via No tizio non spreca i colpi Tizio non spreca i colpi Ti prego tizio Non abbiamo niente Tizio Tizio carica Tolo pure il fucile però E crepa Maledetta zanzara Crepa Ancora vive Ma muori Pezzo di merda Muori 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 Non muore Non muore Non muore la bastarda Non muore Aiuto ragazzi Aiuto Non muore la bastarda No di là di là di là Non muore la bastarda Non muore Muori Non abbiamo più niente Non ho più munizioni Che faccio ora Che faccio che non ho le munizioni Le posso craftare Non possiamo craftare niente Come faccio ad ucciderla Ora con la pistola Le zanzare Le zanzare Aiuto Le zanzare C'è niente qua Muizioni per la pistola Però ma che ci faccio Con la pistola Vorrei dire Che ci faccio Con la pistola Che questa è una bastarda Via 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 Parati tizio Parati Eh ma che pa Ma levati Maledetta Levati Curati Curati tizio C'è ma Ah c'ho le munizioni Quelle pesanti Veloce tizio Tizio veloce Ma vuoi morire tu Vuoi Ma vuoi morire tu Mori Morite Via 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 tizio Dove lo non si capisce Un cacchio Però non si capisce Niente Non vedo niente Non vedo E c'ho pure la pistolina C'ho Mori infiammata Mori Non gli faccio niente Con sta cosa Via 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 Non gli faccio niente Non gli faccio niente Mori 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 Cambia 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 E' morta E' morta No ma veramente No ma veramente Cioè ma Maledetta Devi rimanere così Per tutta la vita Devi rimanere Cioè non ho più munizioni Di niente Ma porca la pupazza Posso craftarmi niente Sono senza munizioni Psicostimolanti Usiamoli Usiamoli Mi sono perso qualche cosa Non ho esplorato niente Ma con la tizia che mi insegue Come faceva Come facevo io ad esplorare Poi ci sono un botto di cose Possiamo uscire L'hai sbloccata Salve Ah siamo usciti da là praticamente Abbiamo fatto il giro Quindi possiamo andarcene Finalmente Andiamo Riscendiamo di qua Speriamo che quella stronza Sia morta definitivamente Perché proprio Non ho proprio le forze Di affrontarla Proprio munizioni Non ne ho Di nessun tipo Solo pistola Che non me ne faccio niente Andiamo tizio Veloce tizio Oh Non mi spuntate qua Perché vi spacco tutto Vi spacco Vi incenerisco Andiamo tizio Veloce tizio Veloce Andiamo a mettere la lanterna Tizio Mettiamo la lanterna Qui Finalmente Via di lanterna Oh Attenzione tizio Perché io qua non mi fido Tizio Oh Apri sta porta Dove cacchio siamo Un coccodrillo Il coccodrillo Come fa Papapapapa Dove siamo qua Chi è? Chi è? Giochi Mappamondo Un cassettino Niente Un armadio Chi è? Oh Non mi fate spaventare Oh Dove cacchio siamo? Un armadio che non si apre Salve C'è nessuno Oh Chi è? Oh Una palla Oh Ma si tirano così le palle qua Ma è una stanza Di una bambina Sono un sacco di giocattoli Chi è? Elen My family My family Elen Evelyn C'è niente? Scarpe No non mi servono Grazie Chi è? Oh Ho paura Ho paura Ho paura È una stanza di una bambina È piena di giocattoli Apri qua tizio Salve Belle queste bambole Veramente fighissime Un orsacchiotto Ciao orsacchiotto Winnie the poo Bellissimo Winnie the poo Winnie the poo Tizio Lascia qua tizio Che brutto però Chi è? Oh Perché stai diventando nero? Aiuto Ragazzi mi stanno venendo i brividi Chi è? Ragazzi mi stanno venendo i brividini Salve Ragazzi c'ho i brividini C'è nessuno Spero di no Spero proprio di no Dove siamo? Qua che schifo c'è? Chi è? Oh Ti prego non mi lanciare le bambole Non volevo nemmeno venirci qua Ti prego Aiuto Ragazzi ho un po' paura Per questo parlo un po' di meno Perché mi sta venendo il cacarozzo C'è qualcosa che non ho mai in lei E ho notato Ho notato veramente Oh Si è chiusa la porta Aiuto Ragazzi aiuto ragazzi Mi prego sostenetemi Ragazzi lasciate tanti like per questo video Per tutte le paure che mi prendo nelle domeniche horror Lasciate tanti like Vi prego Chi è? Stai alla larga Nooo Ma tizio ma io vorrei starmene alla larga Io me ne scapperei pure Ma Ma chi cacchio sei prima di tutto No Giochiamo a palla tizio Chiunque tu sia Bimba Giochiamo a palla tizio Bimba Giochiamo a palla Salve Salve Chi è? Un lettino Dove cacchio siamo qua? C'è la di? Di detenzione C'è? C'è la di detenzione La tenavano chiusa qua? Una casetta E chi tenavano chiuso qua? Chi è? Una mappa Al centro c'è il letto A destra c'è la casetta E nel muro c'è qualcosa Dove? Qua? Oh non mi fate scherzi però C'è una crepe però Chi è? Chi è? Oh Passaggio segreto Che cacchio c'è lì? Nooo Chi è? Un cadavere? Aiuto Braccio serie D L'abbiamo trovato Ma è la bambina Cadavere È morta qua Bruttissima cosa Forse ci siamo Sì tizio Però io adesso ho paura A scappare da qua Ho paura Nooo Nooo Dovevo uscire da qua Dove ricordare pure la strada ora Bimba dove sei bimba Chi è? Che cacchio è successo? Qua è diventato tutto nero Con gli occhi che mi guardano Tizio andiamocene tizio Tizio andi... Vi Che cacchio è? Pure qua Sono sti maledetti Via Corri tizio Dove vado? Dove vado? Via 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 Non so manco dove cacchio sto andando Via 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 No no Di là Di là Di là Di là Di là Di là Dove di là Via 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 Corri veloce 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 Corri Mi seguono Cioè ma con una pistolina Ma come faccia di ucciderli Ti maledetti Chi è? Chi fa mi spi? Ma perché non mi viene ad aiutare? L'hai trovato? Sì l'ho trovato Ecco qua Riusciremo a creare il siero con queste cose? Ce la faremo Una volta creato Potremmo andarsene via Insieme Ti aspetto alla roulotte Va bene? Ma porca C'è la pupazza Andiamo alla roulotte Cioè ora ecco qua Mi assalta il mondo Quando vado alla roulotte Infatti già me ne sono presa abbastanza Me ne dovete fare prendere ancora Abbiate pietà del mio cuore Vi prego Andiamocene immediatamente Direi alla roulotte La mia ancora di salvezza Via di roulotte Entriamo veloci Veloci Velocissimi Velocissimi Che è ancora però Che vuoi? Dove diavolo sei eh? Io Niente Cosa? Ci serve la testa E ce l'hai Questo aiuterà me e mi Chi è? No il fratello E mia Sono qui con me E beh Si stanno ottenendo compagnia Diciamo Ora lasciali andare Ok? A che ti servono? Ah 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 Queste sono questioni Di famiglia Ethan E tu non ne fai parte Mio caro Mi so spiegato Comunque Se ti serve una testa Sentiti pure libero Di venire qui Quando vuoi E io te ne darò una Ma Sopi che prima Dovrai partecipare A un semplicissimo Gioco Che ho preparato per te Solo per te Di che gioco parlo? Oh oh So che non stai nella pelle Ma tranquillo Non andrà da nessunissima parte Molto bene Come prima cosa Partner Ti conviene dare un'occhiata Dentro al frigo Che c'è nella roulotte Fa un culo crema Oh E dai Tu avanti Non devi fare così Dopotutto Vuoi divertirsi anche tu Allora Guarda Dentro Al Frigo Che c'è dentro al frigo? Ma da Ma perché Dobbiamo metterci a giocare adesso? Ragazzi Ma sapete cosa vi dico? Vi lascerò con il dubbio Anche io rimarrò con il dubbio Perché io mi salvo la mia partita Ragazzi E cosa c'è nel frigo Lo vedremo Nel prossimo video Quindi mi raccomando Se il video vi è piaciuto E soprattutto se volete vedere Che cosa c'è nel frigo Mettete un bel like Vi ricordo che potete seguirmi Sulla pagina Facebook Twitter I seguimenti Tutti i miei social Di cui trovate il link in descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Minecraft Pocket Edition L'ultima volta abbiamo costruito questa farm di Enderman Oggi faremo la casa qui nell'end Ora non so nemmeno come farla Ma a quanto meno cercheremo di fare una bellissima casa Oggi torniamo a casa